Undicesima giornata del campionato di eccellenza al Comunale San Ferdinando di Puglia si affrontano l'Ortanova in completo rosso, in completo bianco-azzurro, unione sportiva Mola. Direzione di gara affidata al signor Alessio Casula della sezione arbitrale di Taranto, Novielli e Capurso della sezione di Bari sono gli assistenti. Con le immagini di Mariella Campanano andiamo alla sintesi della gara. Ortanova che deve rinunciare a consolazio in attacco con diverse scelte e diverse novità per Mr. Bonetti, per il Mola di Mr. Castelletti in attacco, Suare e Doucure. Prima occasione al settimo minuto per la formazione di casa con la macchia che serve Valentino, poi a sua volta d'Ascoli, il pallone sull'esterno della rete. Ci prova due minuti più tardi, Doucure, facile però per Bertrand. Al ventunesimo minuto ancora ospiti con Sisto che calcia in porta, facile ancora per il portiere argentino della formazione ortese. Poi la conclusione di Diagne deviata sul fondo. Ancora Ortanova con la conclusione di Damacchia che favorisce l'inserimento di Torraco, va alla conclusione Torraco. Il pallone intercettato da bella vista poi libera la retroguardia della formazione ospite. Ci prova anche Camporeale dalla distanza, pallone di poco alto sulla traversa. Trentaquattresimo minuto, lancio di Diagne a cercare Ricucci che si inserisce bene, calcia di destro e supera Beltran per il gol del vantaggio della formazione ospite. Rivediamo qui la protezza balistica da parte del numero 4 che porta avanti la formazione di Mr. Vito Castelletti. Un minuto più tardi ci provano ancora gli ospiti con Duore il pallone calciato sul fondo, poi ancora Ortanova con il calcio di punizione di Dascoli, pallone ancora sul fondo. Ci prova anche la formazione di Mr. Bonetti con la conclusione di Cormio alla terza rete consecutiva in casa dopo le due siglate contro il Polimnea. Il numero 10 beffa anche bella vista e riporta in parità la contesa. Termina così la prima frazione sul risultato di 1-1. La ripresa inizia con la conclusione di Ducure, il pallone sul fondo, poi ancora la formazione di casa, il Valentino alla conclusione, pallone alto. Ci prova dalla distanza anche Cormio, il pallone è alto. Calcio d'angolo, Cormio per l'altro, Cormio Francesco, il pallone si ferma sull'esterno della rete. Poi ancora gli ospiti con la conclusione di Zingrillo per Beltran che devia. Ci prova dalla distanza ancora il numero 2 da lui, su pallone alto sulla traversa. Ospiti pericolosi ancora una volta con il colpo di testa di Ducure, facile per Beltran. Poi nei minuti finali Ortanova all'attacco con questo colpo di testa di Cormio, facile per bella vista. Poi all'ottantottesimo, grande chance per l'Ortanova con questo pallone servito per la macchia. Il pallone però viene calciato sul fondo per il numero 11. Finisce così la partita con il risultato di parità. Un punto a testa che permette all'Ortanova di salire in classifica, di allontanarsi dalla zona play-out. Per il Mola un mezzo passo falso alla conquista della zona play-off. Nel prossimo turno la formazione Ortese affronterà il Canosa. Il Mola riceverà invece il Borgo Rosso Molfette. Noi a fine partita abbiamo ascoltato i due tecnici, Francesco Bonetti per l'Ortanova e Vito Castelletti per l'Unione Sportiva a Mola. È un po' stretto ma ultimamente ci succede, considerando anche i due squalificati, comunque chi ha giocato veramente oggi abbiamo interpretato bene, forse meritavamo qualcosa in più, però se non riusciamo ad acquisirlo vuol dire che dobbiamo fare qualcosa in più. Abbiamo preso gol su una mezza distrazione concessa all'avversario e purtroppo... Poi siamo stati bravi a recuperare subito, perché se no si sarebbe messa male la gara. Però poi in secondo tempo abbiamo fatto una prestazione ancora migliore del primo. Qua alla fine abbiamo sciupato con la macchia, è un'occasione che vorrei anche rivedere in tv, secondo me era un gol fatto. Ma no, non mi aspetto chissà che cosa dal mercato, adesso parlo con la società, noi siamo, l'Ortanova è una società che sa benissimo qual è il suo ruolo, qual è il suo ruolo in questo campionato e vediamo che cosa possiamo fare e che cosa possiamo tirar fuori diciamo dai nostri impegni maggiori diciamo dai. Ma credo proprio di sì, vedendo le occasioni avute nei primi 30 minuti al primo tempo, quattro situazioni molto da buttare solo la palla dentro e quindi il primo tempo non doveva finire così, però siamo andati in vantaggio, in quel momento dovevamo ottenere il risultato e invece abbiamo preso un gol su un tiro a cross che si è insaccato nella rete. Ma i primi 30 minuti abbiamo avuto 4-5 palle gol da sfruttarle meglio. No, queste considerazioni del mercato io non le faccio perché per rispetto della squadra io lavoro con la squadra che ho e non so il mercato cosa potrà offrire, se prenderemo calciatori, io mi concentro sui giocatori che ho, li alleno e pensiamo alla prossima partita col Borgo Rosso.